Adesso che mancano poche ore al primo anniversario della scomparsa di Giulio Reggeni, era il 25 sera ma la notizia fu diffusa al 31, la Procura di Roma vuole lasciarsi alle spalle attriti e delusioni. Stasera si parla di significativi passi avanti nelle indagini e di una lucetta in fondo al tunnel. I filoni che seguiamo ci porteranno a individuare le singole responsabilità, dice il PM con la Iocco. La Procura Generale del Cairo ha inviato i verbali di interrogatorio di tre ufficiali della National Security, il servizio segreto interno, l'apparato che per gli inquirenti italiani ma anche per quelli egiziani è responsabile del sequestro, delle torture e dell'uccisione di Giulio. Il primo verbale riguarda il poliziotto che dopo la morte dei cinque rapinatori, la strage di Pasqua 2016 con due agenti accusati di omicidio premeditato, ha perquisito la casa della sorella del capobanda trovando in una stanza, così ha dichiarato, i documenti del ricercatore italiano. Gli altri verbali contengono le parole dei due uomini che in seguito alla denuncia del sindacalista degli ambulanti Mohamed Abdallah fecero accertamenti su Reggeni. Loro hanno detto per tre soli giorni, ma i tabulati evidenziano discrasie. L'attenzionamento cominciò l'8 o il 9 dicembre e andò oltre il 20 gennaio. Uno dei due ufficiali, il giovane capitano Sharif, ha mentito palesemente affermando che le immagini del 6 gennaio al mercato di Ahmad Elmi furono girate autonomamente con un telefonino da Abdallah, che poi sempre autonomamente gli consegnò il video. Ma l'ambulante ha detto di aver agito per conto della National Security, con una micro telecamera installata nel bottone della camicia. E in effetti, nota il ROS, uno strumento di captazione così sofisticato e costoso non era alla sua portata. Abdallah tradì Giulio per accreditarsi come informatore di livello con la polizia e per vendicarsi dell'esclusione dal possibile finanziamento del progetto Antipod, un'idea da 10.000 sterline che entusiasmava Regeni. Ecco la mail con cui il 16 dicembre chiede un parere a Huda Kamel, l'attivista che due mesi prima le aveva presentato al sindacalista. Domani il ragazzo di Fiumicello sarà ricordato nel suo paese in Friuli e in varie altre città grazie ad Amnesty International. I genitori hanno raccontato al piccolo di Trieste la forza e la disponibilità umana verso gli altri, la costante e incessante ricerca di dialogo e confronto, la competenza e l'onestà, tutte qualità che saltano fuori anche da quel video girato in modo vigliacco. Ammèd, l'onestà non è valore, non posso utilizzare l'onestà in modo di utilizzare l'onestà in modo di utilizzare l'onestà in modo di utilizzare. Grazie a tutti.